senza di aspettare che cercassimo di risolvere questo problema tecnico. Ricomincio dall'inizio sperando che questa volta siamo più fortunate. Allora, stiamo aprendo oggi il ciclo di conferenze della Fondazione Zoe, Zambon Open Education, nell'ambito della settimana del cervello. La Brain Awareness Week è una campagna mondiale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che è nata con lo scopo di diffondere le conoscenze sui progressi, sui benefici della ricerca scientifica sul cervello. Ogni anno, a marzo, per una settimana, la Brain Awareness Week unisce gli sforzi dei partner in tutto il mondo per organizzare eventi e attività creative dedicate alle persone di tutte le età. L'iniziativa ideata dalla Dana Alliance for Brain Initiative è il frutto di un coordinamento enorme a livello internazionale che vede la realizzazione di circa 2.500 eventi in 50 paesi del mondo. Come Fondazione Zoe, per chi ci conosce lo sa, siamo alla sesta edizione e nei giorni scorsi e fino a domenica chi si è iscritto alla nostra newsletter ha ricevuto una mail quotidiana con approfondimenti, video, curiosità, esercizi di brain training che hanno l'obiettivo di aumentare la consapevolezza su quanto sia importante conoscere e avere cura del nostro cervello. Adesso appunto iniziamo le conferenze programmate. Prima di iniziare di nuovo voglio scusarmi e ringraziare lo staff e i nostri volontari che in sala sono presenti e ci aiutano a organizzare queste nostre attività. Finalmente arriviamo alla nostra prima ospite con cui mi scuso di nuovo profondamente. Siamo molto felici di averla con noi oggi. Si tratta di Valentina Bambini che è professoressa ordinaria di linguistica e anche proretrice per i dottorati presso la Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia. I suoi studi si concentrano sulla neurolinguistica e sull'acquisizione sui disturbi del linguaggio e ha un interesse particolare per le espressioni figurate della comunicazione come appunto le metafore che sono oggetto dell'incontro di oggi. Io l'ho sentita parlare veramente in maniera affascinante su questo tema e oggi ci aiuterà a riflettere, a capire perché le usiamo innanzitutto e il nostro cervello come le processa e perché già fin da bambini riusciamo a capirle quando magari non capiamo cose che per noi adulti magari sembrano più semplici e invece loro le capiscono. Quindi è un tema affascinante. Non rubo ulteriore tempo, mi scuso nuovamente e lascio la parola a Valentina Bambini. Grazie per essere con noi. Grazie molte. Fatemi solo fare un paio di operazioni tecniche. Ci sono diventate bravissime in quest'operazione. Eh sì. Eccoci qui. Eccoci qui. Ok. Allora, ecco talmente brave che lo facciamo partire in anticipo. Dunque, grazie davvero per questo invito perché in ultima analisi la ricerca che noi facciamo in laboratorio trova un senso se viene trasferita alla società e la Fondazione Zoè con gli obiettivi che ha di comunicazione delle questioni della salute. ecco, è un dominio privilegiato per assolvere a questo compito. Vorrei prima di tutto spiegare che cosa centrano le metafore con la settimana del cervello perché tipicamente quando pensiamo alle metafore pensiamo a qualcosa che pertiene all'ambito umanistico, agli studi di letteratura, diciamo. Ma le metafore possono essere viste anche sotto un'altra lente che è quella cognitiva. Le metafore, la nostra capacità di comprendere le metafore rappresenta il vertice delle nostre abilità linguistiche e delle nostre abilità creative nella loro manifestazione linguistica. quindi parlare di metafore in un'ottica cognitiva significa toccare le abilità linguistiche più sofisticate che maggiormente ci differenziano dagli animali ma significa anche avvicinarsi a questioni di salute perché essendo il vertice delle nostre abilità comunicative la capacità di comprendere le metafore cattura anche la nostra capacità di comunicare con gli altri e la comunicazione è un elemento fondamentale della salute intesa come benessere psicologico relazioni con gli altri nella vita quotidiana e tornerò su questo punto verso la fine della mia relazione. Allora, cominciamo a cercare di definire questo fenomeno della metafore lo facciamo partendo un po' dalla lontana prendendola alla lontana e ponendoci una domanda e la domanda è quante parole conosciamo? Io spesso sollevo questo quesito agli studenti dei miei corsi e loro rimangono un po' spiazzati, non hanno idea ci pensano e mi dicono 10.000 azzardano questa cifra è una stima molto bassa gli studi condotti nell'ambito della psicolinguistica evolutiva ci dicono che un adulto possiede un vocabolario con un'ampiezza di circa 50.000-100.000 parole e a questa dimensione si arriva attraverso un percorso molto scandito e direi notevole di acquisizione di parole per cui un bambino quando ha due anni comincia ad avere tra le 100 e le 600 parole c'è moltissima variabilità individuale ma poi impara addirittura 9-10 parole al giorno arriva a 6 anni e lì la scuola ha un grande ruolo fornendo al bambino circa 3.000 nuove parole ogni anno per cui si arriva al termine degli studi dell'istruzione nella scuola superiore con appunto queste circa 50.000 parole poi linguaggi specialistici, esperienze di vita specifiche possono arricchire il vocabolario dell'individuo allora la seconda domanda che ci poniamo per arrivare alla definizione di metafora è se questo numero le 50-100.000 parole che conosciamo limita la quantità di messaggi che possiamo comunicare e veicolare e per rispondere a questa domanda prendiamo una parola io faccio sempre l'esempio della parola perla e guardiamo come viene usata nella lingua italiana è facile da fare, possiamo prendere un corpus della lingua italiana ne esistono tanti che raccolgono testi di vario tipo e si può guardare come viene usata e troveremo che viene usata ad esempio in espressioni come orecchino di perla, tinta bianco perla e qui perla ha il suo senso del vocabolario però poi si trova anche la perla delle dolomiti una nuova perla tecnologica e qui perla comincia a significare qualcosa di diverso fino ad arrivare a cielo di perla che è un'espressione molto bella che ricorre in una poesia di Pascoli la via ferrata ecco in questi ultimi tre esempi la parola perla vuol dire qualcosa di diverso da ciò che indica nel significato standard sul vocabolario e questi tre ultimi esempi sono per l'appunto delle metafore la metafora quindi che cosa è? la metafora è una parola usata al posto di un'altra che ci consente per rispondere alla domanda di prima cioè se le 50-100.000 parole ci limitano oppure no ci consente di rendere infinito il nostro vocabolario perché prende il senso classico di una parola e lo estende arrivando a indicare qualcosa d'altro ma la specificità della metafora è che questo qualcosa d'altro che indica non è preciso, definito, univoco per cui se ripensiamo al cielo di perla pascoliano e ci chiediamo che cosa vuol dire esattamente le risposte sono tante è un cielo tipo questo alla Friedrich è un cielo tipo questo alla Van Gogh è un cielo alla Turner ecco qui sta il bello della metafora l'apertura di significati che genera e sta anche diciamo la bellezza poetica l'aspetto poetico e estetico della metafora per queste sue capacità speciali la metafora ricorre molto spesso anche ad esempio nella comunicazione persuasiva negli spot, nella pubblicità, nel linguaggio politico qui ho riportato ad esempio questa immagine che viene da una campagna sul cambiamento climatico dove c'è la metafora della perla di nuovo però vedete che qui il significato è ancora diverso il messaggio è ecco la tua perla e dentro la conchiglia c'è un sacchetto di plastica quindi di nuovo la bellezza della metafora è usata in questo caso per generare un impatto emotivo a fini persuasivi ora questo fenomeno della metafora nelle sue occorrenze più quotidiane come la perla delle dolomiti o la perla tecnologica fino a quelle più artistiche, più creative è molto frequente nella vita quotidiana non è assolutamente una prerogativa della lingua letteraria nei testi, nei giornali circa il 16% delle parole è usato in un senso che non è quello del vocabolario questa stima è un po' più bassa nella conversazione quotidiana dove l'uso di metafore è intorno a circa il 7% ma nei giornali arriviamo proprio addirittura al 16% qui ci sono alcuni esempi un'intervista al cantante Mario Biondi che ci dice che ha avuto nove figli e fa l'uomo elastico tra le loro personalità o ci dice che i figli sono ossigeno per la sua anima oppure quando si parla della cupola mafiosa si parla di uomini d'oro usando anche qui altre metafore ora che cosa possiamo fare noi di fronte a questo fenomeno comunicativo così pervasivo che cosa possiamo fare noi neurolinguisti possiamo cercare di capire qual è l'hardware delle nostre capacità metaforiche che così spesso utilizziamo nella comunicazione e da tempo ormai direi da una trentina d'anni l'introduzione delle tecniche di neuroimmagine che consentono di individuare le regioni cerebrali maggiormente attive durante determinati compiti ci consentono di indagare anche queste abilità del nostro cervello non solo quelle cognitive più classiche come memoria o attenzione ma anche quelle linguistiche questo lo si fa perlomeno da una ventina d'anni anche quelle emotive ci sono degli studi già fatti vent'anni fa sulle basi neurali delle emozioni dell'aggressività del perdono ecco in questo senso noi possiamo affrontare approcciare anche lo studio dell'hardware neurale della nostra capacità di comprendere queste espressioni creative del linguaggio allora vi racconto ora un esperimento che abbiamo fatto alcuni anni fa in cui i soggetti nello scanner vedevano delle espressioni che erano o metafore oppure usi letterali della stessa parola quindi ad esempio i soggetti vedevano quel pesce uno squalo frase letterale poi dovevano fare un compito di associazione di un aggettivo alla frase quindi dovevano scegliere se l'aggettivo giusto era feroce o geografico questo non ci interessava molto ma lo facevamo per mantenere un po' così svegli e attivi i soggetti nello scanner e evitare che dopo tutte queste frasi si assopissero e nell'altro caso vedevano delle espressioni metaforiche come quello avvocato uno squalo quindi la stessa parola usata nei due sensi e abbiamo registrato le attivazioni cerebrali in entrambe le condizioni qui vedete un'immagine generale delle regioni attivate per entrambe le condizioni e chiaramente sono molto estese questo perché il cervello la nostra corteccia cerebrale è in larga parte attiva tutta attiva durante lo svolgimento di compiti cognitivi ma ciò che noi dobbiamo fare è poi confrontare le attivazioni nelle due condizioni per individuare quelle regioni che sono maggiormente attive quando comprendiamo metafore quando arrivava squalo in associazione all'avvocato e non in associazione al pesce allora facendo questa sottrazione quello che otteniamo è qualcosa di questo tipo queste sono tre sezioni la prima è vista da dietro questa è una sezione dell'emisfero di sinistra vista lateralmente e questa è una sezione dell'emisfero di destra vista lateralmente e ci sono tre gruppi diciamo di regioni che sono maggiormente attive per le metafore rispetto alle frasi letterali un primo gruppo di regioni è situato nel lobo frontale di entrambi gli emisferi e si tratta di regioni fondamentalmente linguistiche sono regioni che elaborano il linguaggio e il nostro sistema linguistico nel cervello è più attivo quando dobbiamo comprendere metafore rispetto a quando dobbiamo comprendere le stesse parole usate nel senso del vocabolario il nostro sistema linguistico lavora di più poi c'è un altro gruppo di regioni che sono collocate vicino alla linea mediana che separa i due emisferi e poi anche nella corteccia prefrontale che sono importanti per alcune specifiche attività cognitive che sono ben esemplificate da questo tipo di test che ora vi presento che è un test molto noto in psicologia cognitiva si chiama test di Stroop è stato creato da John Stroop nel 1935 è un test dove la consegna il compito dei soggetti è di dire in quale colore è stampata la parola quindi il soggetto deve dire verde rosso blu giallo blu eccetera eccetera perché è difficile questo compito è difficile perché la parola esprime un colore che è in contrasto con quello dell'inchiostro usato per stamparla nel task paper and pencil oppure che si vede a schermo e allora quando dobbiamo fare questo compito quello che è necessario fare è inibire un canale di informazione che è quello della lettura della parola dell'elaborazione del significato della parola che stiamo leggendo e concentrarci su qualcos'altro ecco questo è un tipico compito di inibizione noi possediamo delle abilità di inibizione che rientrano nel cappello più ampio delle abilità esecutive che ci consentono di svolgere compiti complessi e di non essere distratti dalla enorme quantità di stimoli che ci arrivano e questo tipo di abilità è molto importante anche nella comprensione dei significati metaforici e perché pensateci c'è anche lì qualcosa che dobbiamo inibire che è il significato letterale quello del vocabolario delle parole dobbiamo inibire alcuni aspetti del significato e concentrarci su altri quindi se riprendiamo l'esempio di perla dobbiamo inibire l'informazione che è in un guscio e che sta nel mare e promuovere per esempio l'informazione del colore cangiante o della rarità ecco la metafora lavora per questa soppressione attraverso questa soppressione inibizione di proprietà e le nostre abilità cognitive di inibizione sono coinvolte a livello di questi circuiti nella corteccia cingolata come vi dicevo vicino alla linea mediana del nostro cervello e in regioni prefrontali e poi c'è un terzo gruppo di regioni che è coinvolto nell'elaborazione di metafore che sono situate più posteriormente in particolare nei lobby parietali e temporali di entrambi gli emisferi e queste regioni sono particolarmente importanti per la cognizione sociale la cosiddetta teoria della mente la nostra capacità di leggere la mente degli altri di attribuire agli altri degli stati mentali delle intenzioni delle credenze delle emozioni anche qui vedete dei test classici se dobbiamo stabilire dalle espressioni facciali qual era lo stato emotivo di queste persone usiamo quel tipo di circuiti neurali se dobbiamo stabilire che cosa ci vuole comunicare qualcuno che usa il pointing e punta verso una bottiglia di nuovo usiamo la nostra la nostra capacità di cognizione sociale di teoria della mente ecco e queste abilità sono importanti anche nella comprensione di metafore perché dobbiamo capire che chi sta usando la metafora ha un'intenzione comunicativa diversa da quella che manifesta a livello letterale quindi anche le nostre abilità di cognizione sociale sono coinvolte insieme al linguaggio e insieme ai processi esecutivi di inibizione nella comprensione delle metafore quindi l'hardware della metafora è composto da questa rete di circuiti linguistici e non linguistici che cooperano insieme per svolgere questo compito che è decisamente un compito complesso negli ultimi direi 15 anni più o meno c'è stato molto sviluppo nelle tecniche di neuroimmagine che guardano non soltanto alle regioni corticali cioè la sostanza grigia coinvolta nei processi neurali ma anche alle connessioni di sostanza bianca che sussistono tra queste regioni cerebrali e che creano delle vere delle autostrade diciamo di attività tra regioni cerebrali e utilizzando questo tipo di tecniche che guardano le connessioni fascicoli di sostanza bianca che si sviluppano al di sotto della corteccia si è visto che c'è un fitto sistema di collegamento tra quelle regioni cerebrali di cui vi parlavo quando menzionavo la cognizione sociale quindi quelle regioni che sono collocate nell'emisfero temporale e parietale che sono importanti per capire metafora e coinvolgendo il sistema della teoria della mente e questo fascio di connessioni è del tutto assente nel cervello della scimmia questa che vedete sotto è per l'appunto la rappresentazione del cervello della scimmia dei fascicoli linguistici nel cervello della scimmia rispetto a quello rispetto al cervello umano e allora possiamo partire da questa osservazione neuroanatomica per guardare al comportamento linguistico dei primati e verificare se davvero non ci sono processi linguistici come quelli degli umani e non ci sono le metafore sono stati fatti vari studi sulle abilità linguistiche dei primati a partire da quelli storici molto noti per esempio quello di fine anni 70 in cui uno scimpanzé chiamato affecuosamente ma anche ironicamente Nincinsky per fare eco a Noam Chomsky venne cresciuto in una famiglia ricevendo input linguistici paragonabili a quelli dei bambini per verificare se non Chomsky quando diceva che il linguaggio è una dote biologica esclusiva della specie umana avesse ragione oppure no perché ecco l'alternativa era che il linguaggio fosse frutto degli stimoli dell'ambiente e se così fosse stato allora anche la scimmia nello stesso ambiente del bambino avrebbe dovuto sviluppare linguaggio ebbene questo studio storico dimostrò che Nincinsky anche dopo quattro anni non era ancora in grado di comporre frasi pur avendo acquisito circa quattrocento vocaboli ci sono altre scimmie più talentuose diciamo per esempio Canzi che è un bonobo ancora vivo tra l'altro che è riuscito ad apprendere circa settemila parole in questo caso se si trattava di segni lessicogrammi diciamo visivi perché si riteneva ora la posizione un po' diversa che le scimmie non avessero un tratto fonatorio come quello degli umani e quindi non potessero usare la lingua verbale per cui sia Nincinsky sia Canzi apprendevano parole segnate oppure parole lessicogrammi diciamo ma la modalità è rilevante comunque Canzi era riuscito ad apprenderne di più ad apprenderne settemila però se vi ricordate i numeri che dicevamo all'inizio sul vocabolario umano la differenza è enorme soprattutto a questi settemila si arriva con grande difficoltà con molto training mentre il bambino le apprende spontaneamente senza nessuna difficoltà e poi queste parole che la scimmia apprende sono usate in un senso rigido è fisso non possono essere allargate espanse arricchite come invece accade nella lingua umana arrivando a generare le espressioni metaforiche quindi il nostro cervello si è dotato di una hardware per la comprensione di espressioni metaforiche che abbiamo visto è molto complesso ma ci dà anche un vantaggio evoluzionistico che è quello di possedere di poter possedere poi un vocabolario infinito di poter comunicare infiniti messaggi continuando a parlare di hardware vorrei però spostare l'attenzione non ecco dall'aspetto diciamo geografico dove nel cervello avvengono questi processi all'aspetto temporale cioè quanto tempo ci mettiamo e questo si può fare attraverso l'utilizzo di una tecnica che si basa sulla registrazione dell'elettroencefalogramma l'elettroencefalogramma si registra applicando sulla testa dei partecipanti questa cuffia su cui sono posizionati alcuni elettrodi che registrano l'attività elettrica spontanea del cervello con una risoluzione temporale finissima cioè ogni due millisecondi restituendoci quindi una fotografia molto dettagliata del decorso temporale dei nostri processi cognitivi e quello che noi possiamo fare è vedere le modulazioni le variazioni di questa attività neurale nel tempo in risposta alle espressioni metaforiche allora vorrei darvi un'illustrazione concreta di quello che facciamo a partire dalla attività cerebrale che registriamo con l'elettroencefalogramma in maniera continua noi cerchiamo di evidenziare queste modulazioni specifiche per una certa frase partendo dalla condizione letterale quindi ad esempio quel pesce uno squalo e vedremo che questa è la modulazione il pattern di modulazione del segnale per la frase letterale poi faremo la stessa cosa per l'espressione metaforica quell'avvocato uno squalo e confronteremo i due segnali e noteremo che ci sono due fasi temporali in cui la risposta per le espressioni metaforiche ha un'ampiezza più marcata o in direzione positiva perché in questo caso la positività è plottata in alto o in direzione negativa scusatemi perché la negatività è plottata in alto oppure in direzione positiva in questa seconda banda in pratica intorno ai 400 millisecondi dalla presentazione della parola squalo ecco l'elaborazione i processi cerebrali diventano più costosi quando squalo è usato metaforicamente e poi c'è una seconda fase in cui questi processi cerebrali per squalo metaforico sono più costosi che intorno ai 600 millisecondi e sembra che nella prima fase recuperiamo il concetto letterale di squalo o di perla in questa seconda fase intorno ai 600 millisecondi invece deriviamo il senso figurato quindi ci mettiamo circa 600 millisecondi per risolvere un'espressione metaforica e se lo guardiamo a velocità reale è un battito di ciglia quindi tutto questo processo complesso di integrazione di regioni neurali di processi cognitivi avviene poi in realtà in soli 600 millisecondi nel nostro cervello allora l'altro l'altra prospettiva che possiamo prendere per parlare dei processi di comprensione della metafora nel nel nostro cervello è quella di guardarne lo sviluppo e scopriremo che lo sviluppo nei bambini e scopriremo che questa architettura cerebrale che abbiamo descritto è molto vulnerabile e arriva nei bambini in realtà piuttosto tardi rispetto a altre competenze linguistiche che il bambino acquisisce molto presto come si manifesta il il linguaggio nel nel bambino beh inizia con la cosiddetta l'allazione tecnicamente bubbling intorno ai sei mesi intorno all'anno appaiono le prime parole intorno all'anno e mezzo il vocabolario comincia a crescere vi ricordate dicevamo che dall'anno insomma fino ai sei anni c'è questo processo di esplosione lessicale per cui il bambino riesce a imparare nove dieci parole nuove al giorno intorno ai due anni arrivano le prime frasi con due parole ed è poi intorno ai quattro anni che il bambino comincia a avere un uso linguistico che si avvicina a quello dell'adulto anche se di complessità grammaticale più ridotta però le metafore rappresentano un grosso scoglio e non ci sono in questa tabella e ora cercheremo di capire perché dopo aver fatto vedere la fotina di mia figlia che nel bel mezzo di questo percorso perché lei ha due anni e mezzo ed è lì che comincia a fare ha superato la fase delle frasi a due parole e comincia a comporne tre ma diciamo dalle metafore è ancora molto lontana c'è uno studio storico degli anni settanta che è uno studio trasversale condotto su bambini di diverse fasce d'età dai sei ai quattordici anni che ci fa vedere che la comprensione delle metafore matura molto lentamente in particolare a sei anni solo nel 5% dei casi i bambini hanno una comprensione corretta dell'espressione metaforica per cui se si chiede loro di spiegare il senso ad esempio di una metafora come il il guardiano del castello è una roccia il bambino potrebbe dire ah il re ha trasformato il guardiano in una roccia cioè potrebbe dare una spiegazione magica di questa di questa metafora che a livello letterale non ha senso e sembra quasi una bugia per legarmi poi all'intervento che avrete oggi sulle bugie nel pomeriggio ecco a livello letterale la metafora è una bugia e il bambino la risolve in sei anni la può risolvere in chiave magica dandone un'interpretazione magica oppure da altre interpretazioni letterali e sbagliate ma solo nel 5% dei casi riesce a spiegarla correttamente la percentuale di risposte corrette aumenta progressivamente e diventa prevalente a 14 anni allora negli ultimi anni abbiamo cercato di capire un po' meglio cosa c'è dietro questa difficoltà delle espressioni metaforiche nella scuola primaria abbiamo condotto una serie di studi con una collega Serena Lecce del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pavia e abbiamo scoperto che ci sono alcune metafore che vengono capite prima di altre per esempio le metafore fisiche quelle che sono incentrate su caratteristiche fisiche visibili sensoriali come certe ballerine sono farfalle vengono comprese prima delle metafore che fanno riferimento a caratteristiche psicologiche mentali ad esempio la nonna è una colonna e vi do qualche esempio di risposta che i bambini danno quando si chiede loro di spiegare questa metafora la nonna è una colonna queste sono risposte di bambini in quarta elementare rispondono in questo modo dicono che è molto dura un po' tesa rigida è dritta è altissima è robusta non si muove mai da lì sa tutto è ferma immobile c'è sempre lei a fare tutto e senza di lei non ci sarebbe niente questo bambino ha già una notevole capacità di comprensione della metafora ma la maggior parte di loro si fornisce delle risposte che puntano che esprimono l'aspetto letterale della colonna essere dritta essere alta non muoversi da lì essere grosso essere stabile essere forte eccetera eccetera quindi sebbene ci sia della variabilità individuale il pattern generale è quello di una maggiore difficoltà per le metafore che esprimono aspetti psicologici e mentali e questo perché perché se vi ricordate prima quando abbiamo parlato dell'hardware della metafora abbiamo detto che una delle funzioni cognitive coinvolte oltre a quelle linguistiche è la teoria della mente la nostra capacità di leggere la mente dell'altro di avere una teoria della mente dell'altro di attribuire emozioni intenzioni e in questa fase la teoria della mente non è ancora matura e le metafore di tipo psicologico e mentale richiedono maggiore teoria della mente rispetto alle metafore fisiche che invece sono basate su aspetti sensoriali e sono di più immediata comprensione per il bambino ora una volta appurato che quindi la metafora non è così semplice per i bambini che cosa possiamo fare innanzitutto bisognerebbe che questo tipo questa conoscenza passasse agli operatori del settore perché pensate a quanta letteratura per bambini faccia uso di espressioni metaforiche senza in realtà porsi il problema dell'effettiva comprensione di queste espressioni qui ho riportato l'immagine di una serie che era molto popolare quando ero bambina io sulla esplorazione del corpo umano dove c'erano questi anticorpi che erano soldatini e tante altre metafore ma chissà cosa capisce un bambino di sei anni di fronte a quel genere di espressioni ma venendo a tempi più recenti c'è questo libercolo che è stato pubblicato negli ultimi anni che serve come guida per i bambini al mondo della rete ai pericoli del mondo per la rete che fa ampio uso di metafore dice che la rete è un bosco in cui bisogna andare accompagnati ma di nuovo chissà che tipo di messaggio passa al bambino a cominciare dal titolo che parla di parole appuntite parole piumate che sono metafore psicologiche di notevole complessità ma poi oltre a trasmettere questa conoscenza dovremmo possiamo provare a sfruttare la plasticità del cervello dei bambini per accompagnarli e promuovere lo sviluppo delle loro abilità metaforiche negli anni della scuola primaria e noi abbiamo cercato di farlo sviluppando un protocollo di potenziamento delle abilità di comprensione della metafora che si chiama Metacom che è basato su una serie di esercizi in cui si presenta una metafora al bambino in un contesto e si insegna al bambino a fare quelle operazioni di soppressione e promozione di proprietà quindi e lo si fa attraverso vari esercizi alcuni più astratti alcuni più applicati che prevedono anche l'associazione tra frase e figura quindi ad esempio se si lavora sulla metafora quella giacca un forno quel maglione ha un forno allora si fa vedere al bambino questo disegno e si spiega quali caratteristiche del forno sono rilevanti rispetto al maglione e si cerca di promuovere la sua capacità di risolvere queste espressioni ecco abbiamo somministrato il protocollo Metacom a un campione di bambini di quarta elementare che è stato poi confrontato con un campione di controllo che riceveva un training di tipo diverso basato su esercizi sul testo senza nulla a che fare con le metafore e abbiamo osservato che il gruppo Metacom che è in viola rispetto al gruppo di controllo che è in arancione dal pre al post migliorava nella capacità di comprendere metafore rispetto al gruppo di controllo che invece rimaneva costante ma la cosa molto interessante è che il gruppo trattato con il Metacom migliorava anche nella capacità di comprendere il testo mentre il gruppo di controllo di nuovo non mostrava segni di questo miglioramento in maniera statisticamente significativa questo che cosa significa? Significa che allenare un'abilità linguistica di alto livello come quella della comprensione di metafore porta poi dei benefici anche nella comprensione di testi complessi che molto spesso fanno uso di informazioni implicite e inferenziali come di fatto la metafora è e quindi si riesce attraverso il potenziamento delle abilità metaforiche a migliorare la fruizione del testo e il senso critico dei bambini che poi diventa così importante nella vita adulta allora la capacità di comprendere metafora è legata a questa architettura cerebrale molto complessa sebbene efficiente un'architettura che però è fragile nello sviluppo matura tardi ci mette un po' ed è fragile nella patologia ci sono numerose popolazioni cliniche gruppi clinici che presentano che manifestano difficoltà nella comprensione di metafore perché di nuovo essendo un po' il vertice delle nostre abilità comunicative di ecco essendo una delle più sofisticate manifestazioni delle nostre abilità comunicative viene immediatamente danneggiata in numerose in numerose condizioni quando c'è soprattutto un danno neurologico o la malattia mentale la difficoltà di comprendere metafore è particolarmente evidente nella schizofrenia la schizofrenia è una malattia mentale che colpisce una percentuale tra lo 0,5 e l'1% della popolazione mondiale e si manifesta con una serie di sintomi cognitivi disturbi direi disturbi nella memoria nell'attenzione oltre poi ai sintomi psicopatologici molto noti come deliri e allucinazioni ecco nella schizofrenia il pensiero è fortemente alterato anche e questo si manifesta nel linguaggio per dirlo con le parole di Eugen Bloiler che è un clinico che per primo descrisse la schizofrenia nei termini moderni diciamo nei malati le parole sono bizzarre e sono dei gusci che hanno un contenuto diverso da quello che significavano prima e questa bizzarria delle parole e questo nuovo contenuto è visibile soprattutto nelle espressioni metaforiche e figurate vi presento qui i dati le risposte fornite da una paziente di 55 anni con diagnosi di schizofrenia a cui abbiamo chiesto di spiegare il significato di alcune espressioni metaforiche un po' speciali cioè proverbi i proverbi sono delle metafore fisse standardizzate che trasmettono anche un significato morale fanno riferimento alla cultura popolare a valori morali sociali di questo tipo quindi hanno un contenuto astratto anche ecco quando abbiamo chiesto alla paziente di spiegare il significato dell'espressione piove sempre sul bagnato lei ci ha risposto piove sempre sul bagnato nel senso che si è innaffiato le piante poi piove anche un po' troppo per la pianta quando le abbiamo chiesto di spiegare chi ha pane non ha denti ci ha detto eh qui il pane può essere anche asciutto morbido che si è sempre una cosa da masticare sempre duro ora che cosa possiamo fare noi di fronte a questo tipo di difficoltà noi come psicolinguisti neurolinguisti quello che possiamo fare è aiutare i clinici a descrivere meglio questi disturbi nella comunicazione e allora abbiamo creato una serie di test di strumenti per la valutazione formale della comprensione di espressioni metaforiche sono delle prove in cui si presentano espressioni metaforiche si chiede o di spiegarle in forma aperta come negli esempi che vi ho appena mostrato oppure sono dei eh compiti a scelta multipla in cui non so la metafora certi automobili sono frecce presentata con tre opzioni e il paziente deve scegliere l'opzione che meglio esprime il significato della metafora quindi ci sarà certi automobili sono veloci che è quella corretta certi automobili sono appuntite che è quella scorretta che è legata alla proprietà letterale che invece dovrebbe essere inibita e certi automobili sono lussuose che è quella non relata e utilizzando questo tipo di task formali abbiamo visto che eh circa il 20% dei pazienti è deficitario nel task scelta multipla e ben il 77% dei pazienti è deficitario nel task di spiegazione dell'espressione quello aperto quindi si tratta di un disturbo io direi centrale core un disturbo centrale nella schizofrenia e del resto i clinici lo sapevano molto bene ma lo chiamavano in un altro modo prima diciamo della così della interazione tra tra psichiatria e linguistica e dell'utilizzo di termini linguisticamente più specifici per questo tipo di comportamenti e disturbi i clinici chiamavano questa difficoltà dei pazienti concretismo e definendo concretismo come la carenza la difficoltà nell'astrarre significati aspetti astratti dello stimolo invece rima la tendenza a rimanere attaccati agli aspetti fisici che è una tendenza che non si manifesta solo nel linguaggio ma in generale c'è un libro molto bello di Sergio Zavoli un giornalista Enrico Smeraldi uno psichiatra che insieme hanno scritto questo testo i volti della mente che è simile ai testi di Oliver Sacks in cui si raccontano vari casi clinici in maniera narrativamente anche molto bella ecco lì c'è la storia di vari pazienti ma poi ci sono anche una serie di foto che sono foto scattate dai pazienti dopo che veniva loro chiesto di raffigurare il senso di una serie di proverbi e questo che vedete qui nella diapositiva è questa che vedete è la fotografia scattata da un paziente a cui era stato chiesto di spiegare il significato dell'espressione meglio un uovo oggi che una gallina domani ora come linguisti questo concretismo del pensiero non può che evocare il concetto di concretezza delle parole perché nella linguistica teorica le parole vengono distinte in concrete astratte capitalizzando sulla differenza tra le parole che si riferiscono a concetti che speriamo con i sensi e concetti che invece sono per l'appunto più astratti e si sa che c'è una rappresentazione neurale differente per le parole concrete per le parole astratte quindi tavolo sedia bicchiere bottiglia sono rappresentati in maniera diversa da innocenza onestà rispetto eccetera eccetera allora negli ultimi tempi abbiamo cercato di vedere se questo concretismo del pensiero che si manifesta come incapacità di andare anche di andare oltre al significato letterale delle parole ha già una traccia nella concretezza delle parole stiamo facendo degli studi in cui in maniera automatica con degli algoritmi estraiamo i valori di concretezza nel parlato dei pazienti e dei controlli poi li confrontiamo e i risultati sembrano confermare la nostra ipotesi cioè i pazienti usano parole più concrete dei controlli quindi il concretismo nel pensiero ha già una radice nella concretezza delle parole e guardate per tornare all'espressione chi ha pane non ha denti se guardate e ripensate a come la paziente spiega questa espressione quello che fa è rimanere attaccata al senso letterale concreto dei termini quindi usa pane morbido vasticare duro mentre un controllo preso a caso dal nostro campione dà una risposta che utilizza parole più astratte dice chi ha la possibilità di fare qualcosa comunque non ha i mezzi quindi sono parole che fanno riferimento a concetti più astratti ora di nuovo una volta che abbiamo descritto queste difficoltà comunicative abbiamo visto la fragilità del linguaggio figurato delle metafore nei pazienti che cosa possiamo fare beh possiamo di nuovo lavorare per migliorare questo per rimediare queste difficoltà per attutire queste difficoltà e allora un po' come abbiamo fatto nel caso dei bambini anche per i pazienti abbiamo sviluppato un protocollo per il per il trattamento delle difficoltà nella comprensione del del linguaggio delle espressioni figurate naturalmente è un trattamento per adulti quindi usiamo materiali non come quelli per i bambini usiamo una serie di esercizi in cui presentiamo espressioni metaforiche cerchiamo di ricostruire un po' il meccanismo che c'è dietro insegnandolo esplicitamente al paziente e poi utilizziamo anche molti materiali ecologici ad esempio articoli di giornale come questo dove c'è Valentino Rossi che vincendo non so quale è il nono decimo mondiale dice gallina vecchia fa buon brodo allora che cosa significa questa espressione oppure un altro dei materiali ecologici che utilizziamo in formato multimodale sempre per essere più vicino all'esperienza delle metafore nella vita quotidiana è questo ecco vedete coperta copriletto lenzuolo e di nuovo chiediamo perché vengono usate queste espressioni e perché sono meglio delle espressioni letterali perché cannavacciuolo qui dice è un copriletto e non dice semplicemente che è una sfoglia troppo estesa troppo lunga di nuovo perché vuole trasmettere un significato più ampio rispetto a quello che trasmetterebbe il significato letterale e avere un effetto emotivo più forte rispetto a quello che avrebbe con il significato letterale insomma guidiamo il paziente in questi meccanismi gli forniamo delle strategie per comprendere queste espressioni ecco che cosa abbiamo riscontrato utilizzando questo trattamento beh allora intanto il trattamento è stato somministrato un campione di pazienti poi confrontato con un campione di controllo che riceveva un trattamento basato sulla conversazione ma di nuovo senza fare riferimenti alle metafore senza dare istruzioni sulle metafore abbiamo osservato dopo il trattamento che il gruppo trattato con il programma di potenziamento della comunicazione delle metafore che è in blu era migliore del gruppo era migliorato rispetto al gruppo di controllo nella comprensione delle metafore ma anche nelle abilità comunicative generali erano più bravi anche nella conversazione in generale nella valutazione che abbiamo fatto tre mesi dopo la fine del trattamento abbiamo osservato anche un miglioramento nel gruppo trattato con il nostro protocollo rispetto a quello di controllo anche nelle scale della qualità della vita ora la scala della qualità della vita è una scala autosomministrata in prevalenza che valuta la capacità del paziente di svolgere attività nella vita quotidiana incluse inclusa la capacità di avere relazioni interpersonali e abbiamo quindi riscontrato che migliorare la capacità di comprendere metafore migliora la capacità del paziente di avere relazioni sociali e di svolgere attività della vita quotidiana che vanno da andare a fare la spesa da telefonare a qualcuno per comunicare un certo messaggio a compiere una serie di compiti quotidiani nel mondo quindi di nuovo l'abilità di comprendere metafore è un po' il vertice delle nostre capacità comunicative ed è importante per la qualità di vita il benessere psicologico ed è potenzialmente una via per promuovere la qualità della comunicazione della vita negli individui ora le ultime battute della mia presentazione vorrei dedicarle a un tema di grande attualità che è quello di chat GPT e in generale dei chat bot e degli algoritmi diciamo dell'intelligenza artificiale e linguaggio abbiamo visto che la capacità di comprendere metafore ha dietro questa architettura complessa ma efficiente che è fragile nel bambino e che è fragile nel paziente riesce l'intelligenza artificiale riesce la macchina a comprendere le metafore c'è stata un grande discussione negli ultimi tempi proprio nelle ultime settimane su chat GPT è stato usato per tutti i compiti possibili insomma per chi non avesse familiarità chat GPT è un chat bot cioè un'intelligenza artificiale con cui noi possiamo dialogare possiamo porre delle domande a chat GPT 3 alla versione 3 e ci dà delle risposte no? e cosa c'è dietro a chat GPT? c'è dietro un'enorme quantità di testi ecco è un'intelligenza artificiale che si basa sull'apprendimento statistico da un'enorme quantità di testi dietro c'è una massa di testi che arrivano tra l'altro fino al 2020 e chat GPT utilizza dei sistemi sostanzialmente probabilistici per dato qualcosa prima prevedere che cosa arriverà dopo quindi è un apprendimento puramente statistico che fa sulla base di grandi quantità di testi che gli vengono date in pasto ora abbiamo provato a trattare chat GPT come se fosse uno dei pazienti nei nostri studi e gli abbiamo somministrato le metafore quelle di quei test di cui vi parlavo prima chat GPT come fa? beh fa bene perché se gli chiediamo di spiegare certe borse sono macigni ci dice che le borse sono pesanti e ingombranti se gli chiediamo di spiegare certi ricordi sono spine che è una metafora un po' più difficile perché più astratta capisce anche questa ci dice che è un'espressione che si riferisce a ricordi che causano dolore tristezza esperienze spiacevoli e dolorose quindi insomma sembra capire bene le metafore ma questo non ci deve spaventare perché un po' come la calcolatrice ci ha liberato dall'incombenza di fare i calcoli a mano ci ha GPT potrebbe liberarci da altre da altre incombenze però quello che è interessante è chiedersi qual è il valore euristico di ci ha GPT e se anche noi apprendiamo tramite questi meccanismi probabilistici e la risposta è no perché un bambino di circa una decina d'anni che sta imparando a comprendere le metafore ha avuto un'esposizione a circa 10-100 milioni di parole ci ha GPT ha avuto un'esposizione a 300 miliardi di parole una quantità che richiederebbe circa 2500 anni di lettura ininterrotta per un essere umano quindi il meccanismo degli umani non può essere probabilistico come quello di ci ha GPT perché il nostro input è completamente diverso innanzitutto dal punto di vista quantitativo ma poi c'è un secondo aspetto che differenzia l'input nostro e l'input di chat GPT l'input di chat GPT è esclusivamente testuale l'input del bambino è multimodale è embodied allora così sull'onda di questo pensiero abbiamo provato a somministrare a chat GPT le metafore fisiche e le metafore mentali vi ricordate vi ricordate che nei bambini quelle fisiche sono più facili rispetto a quelle mentali e così è anche nei pazienti ebbene c'è GPT fa l'inverso fa bene le mentali ma con quelle fisiche ha difficoltà se gli chiediamo che cosa vuol dire quel pugile è un panda che si riferisce all'occhio nero del panda lui ci dice che il pugile potrebbe avere un aspetto simpatico e buffo come il panda che è noto per il suo volto rotondo e peloso se gli chiediamo cosa significa che i bambini bagnini sono lucertole cia GPT ci dice che i bambini bagnini hanno condividono con le lucertole caratteristiche come l'attenzione ai dettagli la rapidità e l'agilità dei movimenti quindi forse abbiamo trovato un po' il tallone d'achille di cia GPT perché adesso vedremo con il 4 che stanno per rilasciare che è questo della multimodalità dell'input che invece l'intelligenza artificiale non ha e la multimodalità dell'input è cruciale nella comprensione delle espressioni metaforiche perché ce lo diceva già Aristotele Aristotele diceva che le metafore ci mettono le cose davanti agli occhi perché generano molte immagini mentali e ci diceva anche in questa bellissima citazione che vorrei fosse un po' la chiusa del mio intervento che la 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 metafora è un segno di genio perché implica una percezione intuitiva della somiglianza nella diversità vi ringrazio per l'attenzione un'ultima parola per il mio gruppo di ricerca che comprende dottorandi dottorande ricercatori e ricercatrici e che è finanziato anche da un progetto del Consiglio Europeo della ricerca che abbiamo lanciato quest'anno per indagare proprio la metafora e questo aspetto dell'immaginazione nei processi metaforici sarò molto felice di rispondere alle vostre domande grazie grazie professoressa per questo intervento bellissimo che ci ha dato tantissimi stimoli adesso appunto se ci sono domande sia al numero di cellulare che avete che avete visto sia dalla sala volentieri insomma un paio direi proviamo a prenderle anche se a causa dei problemi tecnici abbiamo fatto un po' un po' lunghi però intanto è arrivata già una domanda mentre mentre lei parlava e gliela passo lei dice che le metafore si usano nel linguaggio comune ma anche nel linguaggio scientifico che in teoria però è oggettivo neutro diretto preciso lei come si pone rispetto alla presenza delle metafore nei lavori scientifici e poi anche se pensa che ci siano differenze rispetto all'uso comune bellissima domanda bellissima domanda io predico molta cautela nell'utilizzo delle metafore nei lavori scientifici negli articoli cioè vanno bene per il titolo vanno bene per diciamo un passaggio di sintesi nell'abstract magari per riassumere un punto saliente ma devono essere supportate da una spiegazione che invece usa le parole nel loro senso da dizionario perché la metafora per l'appunto non è associata a un'interpretazione di significato univoca però nella divulgazione gettano un ponte per usare una metafora per spiegare le metafore nella divulgazione sono strumenti importanti perché consentono una comprensione immediata anche se non precisa di alcuni concetti scientifici di nuovo talvolta possono non essere molto accurate ci sono anche c'è dibattito anche sulla metafora del sistema solare per l'atomo che non è esattamente corretta però garantiscono un avvicinamento a certe tematiche ma vanno sempre usate con cautela stessa cosa nella scuola c'è un bel libro sull'utilizzo di metafore nella didattica per bambini intorno ai 10 anni nella didattica specificamente di concetti scientifici e sono descritte anche le reazioni rispetto alla metafora dell'atmosfera come coperta che non da tutti i bambini viene compresa in maniera efficace ad alcuni bambini crea ad esempio confusione quindi è da usare con molta cautela ponderandola sempre molto bene rispetto al target rispetto